PEGI 12 Particolarità che modificano il corso della battaglia Puoi attaccare una carta nella stessa zona oppure direttamente l'avversario Vinci quando il tuo avversario resta senza salute Se subisci un certo numero di danni, una runa si infrange Quando questo accade, puoi pescare immediatamente una carta e cambiare così la tua sorte Grazie alle tue scelte e a un pizzico di fortuna, trasformerai una sconfitta in vittoria Combatti quando vuoi, dove vuoi, da solo o contro altri giocatori Mettiti alla prova in un'intera campagna, in rapide schermaglie O nell'arena contro una folla di nemici Crea una collezione di alleati, armamenti e magie Combina le carte per creare potenti mazzi Con l'addestramento le carte accresceranno il loro potere Scegli una strategia Scegli un sentiero Scegli il tuo destino E diventa Una leggenda